Grazie 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 Bravo Adam E' impossibile beccare la palla ragazzi La palla sta a trasferire E' su Grazie 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 Da quando encias Grazie 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 Ma no Ma no non è stato il virus ma che questo è gli avversari ma che è il virus? 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 e io ho 3 di 8 e non fa niente lo fa puoi dire? si sa che lo fai si sa che lo fai e dia si appoggia Grazie. 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 Pallo, eh? Siamo in mezzo. Arbitro. Fuori, fuori, fuori. Dai, dai, che buono. Vai, Gabri, vai, Gabri. Grazie. 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 Bravo. 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 Dai, Gabri. Bravo. Bravo, dai. Dai, Gabri. Dai, Gabri. Dai, Gabri. Dai, Gabri. Woh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Spera! 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 Tira giù forte! Beniti! Tira! Bravo! Beniti! Vai Andres! E' quel il cuadro era frutescidio. Maudente su partecipierà! Tira! Tiraбуco! Maudente su partecipierà! Dimool Ghosts Dimool Ghosts Adolescide su partecipierà! Ho capito! Di quello per terra su cafe Mamma rajutera! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti